Ciao a tutti, sono Nesea, oggi sono qui con un nuovo video e oggi voglio aprire due blind bags in particolare, diverse dal solito perché sono appena arrivate, almeno da me. Allora, ci sono questi Shopkins che sono di una nuova serie, credo. La copertina è più o meno uguale a quella della scorsa serie, però dovrebbero essere nuovi. Poi lo vediamo nella checklist. Questi costavano 2,90 e poi apriremo un'altra che è di Batman, della DC in realtà, che sono praticamente in uno slime, quindi non ho idea di cosa, di come siano, però ve li farò vedere. Sono delle figure in uno slime. Allora, iniziamo dagli Shopkins e apriamo questa bustina. C'è la solita Shoppers. E vediamo chi ho trovato. Uh, la pasta! A me sembra che questa fosse già in un'altra serie comunque, cioè già nella scorsa. Ora vedo un attimo la checklist e vi dico se sono nuovi. Eccoli, allora no, sono gli stessi della scorsa volta, quindi non sono nuovi, li hanno semplicemente, credo, rimessi in commercio, suppongo. Erano gli stessi. Ecco qui, la nostra è una comune, si chiama Fasta Pasta. Vediamo la figure. Eccola qua. Ha gli occhi tipo derpy, un po' strabici, sembra un po' pazza. Però è molto carina. Qui forse dovevano dipingere lo scialle, tra virgolette, che sarebbero degli spaghetti di giallo, ma non li hanno dipinti, non so perché. Fa la linguaccia, qua ci sono degli spaghetti che scendono e allacciati. E sembrano un po' i suoi capelli. Veramente carina comunque. Non ce l'avevo, ovviamente c'è il foro per metterla sulla matita. Molto carina e texturizzata abbastanza bene. Ora, apriamo queste qua della DC. Abbiamo Batman, Superman e Flash qui davanti. E si chiamano DC Super Friends. E sono praticamente, allora il prezzo è 2,99. E sono praticamente in una bottiglia, no, in un barile di slime. E c'è dentro la figure. Stando a quanto ci dice qua, ci sono 12 personaggi, 14 tipi di barattoli di slime. Quattro con slime metal, tre con slime che si illuminano al buio. E ogni bustino ovviamente c'ha la figure, il barattolo di slime e il magazine. Queste sono le avvertenze, se volete leggerle. Ecco qui il magazine. Non vi ho detto quale mi piacerebbe trovare, ma più o meno tutti i personaggi di DC. Mi piacciono ovviamente Batman, il mio preferito, ma mi piacciono tutti. Guardate quanti sono. Ci sono anche i cattivi. Wow, non lo sapevo. Mi piacciono tutti quanti. Magari un po' meno lui, forse è lanterna verde, non so. Però gli altri mi piacciono tutti quanti. E qua ci sono delle immagini, giochi. Molto carini comunque. Sì, sono tutti da colorare praticamente. Eccoli. Allora, quindi questi sono tutte le figure e i barattolini che si possono trovare. Questi tre si illuminano al buio. Sarebbero belli trovare da questi qua che si illuminano. E' bello anche il Joker. Ok, andiamo e vediamo chi ha trovato. Eccoci qua, vediamo chi ha trovato. Flash! E vai, mi piace Flash. Adoro Flash. E si illumina al buio, wow. Qua ha anche una cosa glitterata, come vedete. Olografica. Forte. Qua ha il suo simbolo. Qua c'è l'immagine di Flash. E niente, ora lo apro e vediamo com'è questo slime. Allora, tolto il coperchio, c'è quest'altra placca metallica che ora andremo a rimuovere. Ok, ecco qua. Abbiamo rimosso la pellicola di metallo e qui dentro c'è la bustina con la figure e lo slime che brilla al buio. Oh mio Dio, mi fanno tanto impressione gli slime, sono sincera. Comunque, ho pensato che, visto che è particolare e si illumina al buio, potremmo fare dei video, potrei fare un video con delle creazioni fatte in slime e poi vedremo se si illumina al buio. Ditemi che ne pensate e magari lo posso fare in futuro. Tiriamo fuori questa figure. Oh mio Dio, quanto è impressionante. Eccolo. Allora, non sporca come vedete. Guardate. Non lascia neanche unticce le mani. E niente, mi fa troppo impressione. Ok. Vediamo com'è questa figure. Intanto lo slime lo rimetto nel suo barattolo. Eccolo qua. Oh mio Dio. È impressionante. È veramente molliccio e freddo. Non avevo mai toccato uno slime prima d'ora, però è veramente impressionante. Quindi ecco, questo è lo slime. Molto compatto. Eccolo qua. Simile agli slime appunto che vendono anche in edicola. Uh. Mio Dio, ho sguisciato da tutte le parti. Ok, lo metto via e apro la figure. Ok, ecco la figure. È decisamente molto caricaturale. Quindi molto particolare. Ha questi piedi enormi. Veramente enormi. E ha un sacco di muscoli. Molti più di guanti flash abbia nella realtà. E niente. La faccia è abbozzata un po' così. Un po' non perfetta diciamo. Non è che la faccia mi faccia impazzire. È fatto bene lo stemma. E niente. Per il resto è particolare. Molto particolare. Non so come definirla ma è particolare. È piccolina. Non eccessivamente piccola ma comunque carina. E niente. E poi in più appunto oltre alla figure avete anche lo slime. E mi piace il fatto che questo brilli al buio perché è più particolare diciamo. E niente. Ora rimetto la figure nello slime. Eccolo qua giù. E niente. E niente. Io vi saluto con questa immagine slimosa. Fatemi sapere se volete il video con le creazioni slime che si illuminano al buio. E ve lo faccio. E niente. Detto questo chiudiamo Flash nella sua scatolina. E vi saluto con queste due sorpresine che ho trovato oggi. Spero che vi siano piaciute. Ditemi qual è la vostra preferita. E quali volete trovare. Soprattutto appunto dei supereroi. A me Flash piace molto devo dire. E mi piace appunto che questa si illumina al buio. Non posso farvelo vedere ora. Quindi lo scopriremo in un altro video. Quando farò le creazioni. Spero che vi sia piaciuto il video e che vi abbia intrattenuto. Vi mando un bacione e un salutone. Vi ricordo di lasciare un like, commentare e iscrivervi al mio canale se vi va. Partecipate al giveaway. E ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.